Buonasera Consiglio Comunale, questa sera brevissimo, siamo con il consigliere di minoranza Rocco Assante, questa sera si è parlato di... Stasera sono state approvate alcune tasse, in realtà, addizionale comunale, Imo, Tasi, Tari, eccetera eccetera. E questa sera, soprattutto per quanto riguarda l'addizionale, ho voluto far presente al sindaco che c'è stata una forte incongruenza, incoerenza rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso. Perché l'anno scorso il sindaco, dicendo che questo era un comune disastrato, rovinato e che, insomma, buchi da tutte le parti, ha deciso di aumentare l'addizionale comunale. Poi però si scopre che l'anno scorso si è chiuso con un avanzo di quasi 600.000 euro, quindi di fatto quell'addizionale comunale, quell'aumento, non era necessario. Quindi l'ho invitato a cambiare la deliberazione di questa sera, che era una deliberazione confermativa dell'anno scorso, e di diminuire l'addizionale comunale a livello dell'anno precedente. Ovviamente, sapendo benissimo che quest'anno, per legge, non si può aumentare né l'addizionale, né l'imo e né altre cose. Il sindaco, invece, di tutta risposta, ha detto che quest'anno hanno fatto una, per scelta, sono stati, per la prima volta hanno scelto di non aumentare queste tasse. Io ho fatto presente che purtroppo non è così, nel senso che è la legge che prevede che le tasse quest'anno non possano essere aumentate, ma possano solo essere eventualmente diminuite. Quindi di scelta politica non ce n'è. La vera scelta politica è stata quella di non voler restituire ai cittadini quello che l'anno scorso indebitamente è stato loro tolto. Sarà poco, sarà molto, però l'anno scorso hanno preso dei soldi dalle tasche dei cittadini che potevano tranquillamente evitare di prendere. Perché il Comune, come lo dimostrano i conti anche di quest'anno, assolutamente non si trova in una situazione di disagio finanziario come invece qualche altro Comune a noi vicino. Il nostro Comune è più che solito finanziariamente.